Io capisco quel che pensi si potrebbe dire. Ha ragione a non voler tornare. E chi lo sa com'è stare dentro, dentro quello maccio di Luca. La quest'oria andrà comunque oltre la mia. Tu pensa a far bene soltanto ciò che le anime sanno fare e sarei sempre felice. Grazie a tutti.